Sì, sì, sì. Voglio dirti un'ultima cosa. Ora che possiedi il mio forte, prima o poi verrà attaccato. Ma questo lo sai, dato che lo hai già fatto. Ottimo lavoro, tra parentesi. Ma ricordati, non devi sempre stare solo sulla difensiva. Hai degli esploratori che possono trovare i forti nemici, così che anche tu possa andare all'attacco. Sai come si dice, il miglior attacco è un buon attacco. E non preoccuparti se esaurisci gli orchi. Se vuoi nuove reclute, vai e parla col glob noto come cacciatore di teste. Ti aiuto? Prima di partire ho dimenticato di riempire la ciotola di Ramingo. Sarà di pessimo muro se non rientro. Arrivo, Ramingo! Sì. 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 Ho visto qualcosa muoversi. Un caragono. Maledetto bellino, frema! Ci sono! Ti schiaccerò! Continuiamo a circondarlo! Non c'è quanto... Non c'è quanto... La mano! La mano! Occhio! Il ramingo! Che fuori occidente! È come mirare al buio! Non puoi scappare! Non, non, non così! Adesso ti faccio vedere come si fa! Eh... Le fosse! Vedi, è più di un posto dove staccare la testa a qualche orco, per quanto non guarderei altro da mattina a sera. Nelle fosse puoi mettere alla prova i tuoi seguaci, vedere come si comportano contro qualche bel nemico. Ci sono sempre orchi forti da combattere e se il tuo seguace sopravvive si fortificherà. Se invece muore... Beh... Gli verrà dato ciò che si merita e avrai una potenziale nuova recuta. E a prescindere da come andrà i tuoi uomini gradiranno lo spettacolo, nulla attira sul morale come la vista di un cadavere. Hai voltato le spalle al sangue orchistico! Vieni da un maceio! Visto? Non è stato bellissimo? Grog a volontà! Un sacco di risate, sangue ovunque, Grog a volontà! Ah! I combattimenti nelle fosse sono i migliori! E dopo i migliori, Living Light, Berti Robotica, Black Battlefield 2020 queste da suppliesci 11 euro. Vecco, parezzi ora a tutti se spiega di pure duro. Non è stato patterso nemico, non èσceppa che ha rispchnia all'interno. Grazie a tutti. 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 Ork. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti. 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 Tu senti un po' Grazie a tutti. Pugnalalo di nuovo! Garagalli, Ruzzo! Non puoi sconfiggerci! Corpitelo nei punti scoperti, così! Non mi stringe nulla! Strappiamogli le carri! Sono troppo forte per te! Pronto ad assaggiare le nostre lame? La prossima te lo pianto in volta gabbaro! Non ho vinto! Uccidiamoli! Ti ha preso! Ancora un po' e sarai poltigliato! Nuova! Sei pronto a morire? Io proteggerò Bordor fino alla fine e tu conoscerai il prezzo della tua violazione! Sono una forza inarrestabile! Tu non sei alla mia altezza! La mia forza viene dalla fiamma oscura e non potrai resisterne! Mordor per gli occhi! Non può avermi vivo! Ogbur! Affronti un destino che è peggio di prima! Davanti hai un orco che parla in rima! Ha ha ha! YAAAAAAH! No Sì Non mi serve aiuto. Ehi Tark, ti faccio a pezzi, è su quel muro, cercatelo, ratti maledetti, sentito anche tu, ma rallete subito. Ehi Tark, ti faccio a pezzi, è mia! Non sopravvivranno a lungo a Mordor. Ehi Tark, ti faccio a pezzi, è mia! 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 Ehi Tark! 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 Tu sei mio! Non riesco a sbarazzarmi del Senza Morte! Spezziamogli le braccia! Ehi Tark! Ehi Tark! Ehi Tark! Grazie a tutti. Calma, Baranor. Sei vivo? Come mi hai trovato? Oh, è stato facile. Ho seguito la scia di orchi uccisi. E Idril? È fuggita da Mina Sittil? Ci hanno sorpresi. L'ho persa. Hanno catturato molti dei nostri. Altri sono ancora nascosti. L'esercito di Sauron ci dà ancora la caccia. Idril è molto forte. Ma nessuno sopravvive a lungo a Mordor. C'è una via d'uscita. Devo soltanto trovare lei. E chi è ancora vivo. Troviamoli tutti. Alcuni dei nostri sono stati visti in questo campo. Fa piano. Dobbiamo fare attenzione. Basta così. Hai vinto. Hai vinto. Cosa è stato quel rumore? Torna nella polpa. Ti sono alle spalle. Quello gli ha fatto male. E' ora di spargere sangue di Hulk. Attacchiamolo da dietro. Non siate così. Non siate così. Non siate così. E' di nuovo qui. Che fortuna. Fuori, fuori. Ci hai salvati, Ramingo. Ci hai salvati. Ci hai salvati. Finalmente. Sono legato a questo palo da due giorni. tutto a posto? Mi serve un momento. Non devi fermarti. Trovata Idril fuggita verso ovest. Così potrai rifarti una vita. Me la sono già rifatta una volta. Me la sono già rifatta una volta. Sono nato nei pressi di Umbar. Sono una Radrim. ma... Beh, è molto lontano da Minasithil. Il mio ordine mi ha inviato a Gondor come garanzia di pace. Ma gli Aradrim avevano altri nemici. Ma gli Aradrim avevano altri nemici. Sarei dovuto tornare, ma... quando avevo dieci anni... ho perso i contatti. Ho vissuto benissimo a Minasithil. Ero rispettato. E felice. E poi il disastro. Allora devi iniziare la tua terza vita. L'unica vita che conta è quella con Idril. Ma prima dobbiamo trovarla. E giuro che lo faremo. Loro accusano i nostri comedi. Quelli fortunati. Dimmi, hai liberato molti dei tuoi fratelli? Non abbastanza. Certe settimane ne perdiamo né di quanti ne sappiamo. No, questo è un labbrino. Ma non c'è più la prima. No, ma non c'è più Marghi. No. Ma non c'è più la prima. Ora questi orchi soffriranno. Grazie, baromano. Morte! Guarda qua! Ormai il porco dovrebbe essere qui. Dov'è finito quel mozzo? Ho visto qualcosa. Sei morto! Guarda qua! Do l'Uruk smagliato! Non ce l'ho! Grava miseria! La tua testa è mia! Continuiamo a cercare. Credevo fossimo sfacciati. La mia famiglia ti ringrazia, rapido. La mia famiglia ti ringrazia, rapido. La mia famiglia ti ringrazia, rapido. Dudes. Da allora di loro. Non sono... Non posso muovere! Tu mi obbedirai! Io ti disprezzo. Io ti disprezzo. Andiamo! Andiamo in tempo di reagire! Stai vinto. Stai vinto. Grazie mille, Rami. Non ci speravo... Non ci speravo... È ancora viva. È ancora viva. Non osavo sperarlo. E noi la troveremo. No... Non ci speravo... non puoi salvare tutti talion idril potrebbe essere già morta la troveremo è una promessa ismoz ogbur mi sento un pochino nervoso un colpo mortale sono costretto a sferrare al Tark schifoso così non lo uccidete lo spaventate tardino è il destino taglia il destino devo accendere il segnale aiuto porto un messaggio importantissimo qui? un pinocchio vado ad accendere il segnale vittoria sono nella storia devo accendere il segnale sangue inarrestabile sorpreso? non 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 Grazie a tutti. 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 E' proprio finita. Accetta la sconfitta come un bravo soldato. Questa falsa speranza che mostri è patetica. Grazie a tutti. E' ora di sopra. Ho temuto che... Ti ho cercata dappertutto. Anche io l'ho fatto. Vieni. Non voglio più essere protetta. mai più. non da te. né da nessun'altro. Idril... Idril... è una... è una... è una vera guerriera. e... e... Idril... e... è... No, 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 no. è tornato un momento vado a controllare fermati ti ho beccato quello di averti fatto male attenzione mi piace ti piace non potrai umiliarmi di nuovo ti abbatterò e trascinerò il tuo corpo malconcio alle porte di Minas Tirith tutti gli abitanti di Gondor vedranno l'umiliazione non sono un soldato sicuro non hai speranza aiutami ragazzi le cose vanno male per ora è meglio ritirarsi non 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 Scrivi di dosso a quest'Attack! No! Capritemi ragazzi! Vengono vederli. Serviti. Ti ascolto, lucente signore. Signore. Ai tuoi ordini, signore. Nessuna vera. Va bene. Dovresti passarci sopra un abbiato. Ricordiamolo. Vai a dare un'occhiata. È di nuovo qui. Nessuno è preciso come me. Tu ti girocchierai. Non lo schiacciano. Te schiacciano, schiacciano. Il cognato. No! Non lo schiacciano! Non lo schiacciano! No! Non lo schiacciano. Es cacciao! Cosa sta? Tuorne Non hai via di puga Non ci sfuggirai qui Tutti addosso Devo chiamare i rinforzi Sei lento, pelle rosa E io ti fermerò del tutto Non lasciate che mi prenda vivo Non puoi eliminarci tutti Ho visto qualcosa Mi prendi Grazie a tutti